A 12 anni dal sisma c'è un patrimonio immobiliare enorme del comune dell'Aquila fatto per quel che riguarda solo il progetto case voluto da Silvio Berlusconi 12 anni fa per dare agli sfollati aquilani una risposta abitativa immediata da 4.500 appartamenti del progetto case e da 1.180 map, i moduli abitativi provvisori. Hanno dato alloggio a 30.000 sfollati nel dopo sisma, scesi poi a 14.000 sino ad arrivare a 10 anni dal sisma ad 8.000 persone, un saldo però che dopo 12 anni rimane comunque attivo perché nel frattempo alcuni appartamenti sono stati assegnati a precise categorie mantenendo una certa vivacità abitativa mentre altri aquilani sono tornati a casa terminata la ricostruzione della propria abitazione. La novità, come spiega a rete 8 l'assessore al patrimonio Fausta Bergamotto, è che ci sono dei fondi cipe per uno studio e il sindaco Biondi si è battuto molto per averli. Attraverso l'assistenza tecnica della struttura di missione presso la presidenza del Consiglio dei Ministri si è fatto una convenzione con il Formez per uno studio che andrà terminato entro l'anno e che è ricognitivo di tutto il patrimonio post-sisma. Questo permetterà secondo la Bergamotto di produrre un programma o un progetto per l'uso del piano case, per individuare ad esempio cosa mantenere o cosa dismettere, quali appartamenti possono essere valorizzati in termini turistici e altro. Alcuni saranno probabilmente abbattuti e sono quelli già dismessi per alcuni problemi strutturali che rimettere in piedi costerebbe però troppo. Alcuni appartamenti, nello specifico una piasta di roio, saranno dati all'università come da loro chiesto per il collegio Ferrante d'Aragona. C'è poi una delibera che permette al Comune di affittare il progetto case anche a privati con un canone concordato per tenerli comunque in funzione, sostiene l'assessore e quelli liberi attualmente sono circa 600, considerando che c'è una percentuale messa a disposizione per le fragilità o per situazioni di emergenza sociale. Inoltre sono state estilate, ricorda la Bergamotto, varie convenzioni con amministrazioni pubbliche, sempre nell'ottica di utilizzare questo enorme patrimonio immobiliare che al Comune ha dato anche qualche noia, vedi le morosità di alcuni utenti, come quella con la Procura, Esercito, Guardia di Finanza o Vigili del Fuoco per concedere alloggi a queste categorie.